Sì, vabbè, dai, dopo ti mando un messaggio. Sì, vabbè, dai, ci vediamo dopo. Oddio, scusa, potrei farti una foto? Perché? Ok. Non sono concentrati, li vedo persi, hanno sempre il telefono in mano, quando mi vedono fanno finta di niente, mi hanno anche fotografata. Ciao Marco, hai saputo? Cosa? Hanno fotografato la prof. Non sospetta di nulla, ci crede per di tempo. È vero, però noi abbiamo preso il cuore e lì la mettiamo. La lettura mi ha sempre dato risposte, ma ora non ne sono più convinta. Aurora? Dimmi! Hanno già occupato il cuore. Come? Anche in classe, hanno comportamenti insoliti, infantili. Li trovo dappertutto. È un continuo rincorrersi. Chiara? 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 E adesso? Siamo chiusi in casa da due mesi Non riusciremo mai a finire il video per colpa del virus L'avellinato penserà che non abbiamo fatto nulla Che siamo dei nullafacenti Tra un mese abbiamo gli esami Ed era tutto pronto Dobbiamo trovare un modo per far andare l'avellinato a scuola Dobbiamo trovare un modo per farlo andare in classe Così almeno vedrebbe cosa abbiamo fatto E finalmente vedrebbe Sì, lo vedrebbe Come abbiamo ben capito la frase di Falcone che ci diceva sempre La gente fa il tifo per noi Perché noi siamo la gente Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti